Supera momenti difficili in famiglia con questa preghiera rivolta al Signore. Recitala ora. Tutti possiamo vivere momenti difficili, difficilissimi in famiglia per vari motivi, e quando sentiamo che non c'è una soluzione, dobbiamo necessariamente rivolgerci al Signore, perché sappiamo che Egli ci ascolta se ci rivolgiamo con il cuore in mano. Questa stupenda preghiera può essere recitata quando nella famiglia si perde l'amore che la unisce e quindi vogliamo ritrovare una nuova armonia. Una supplica semplice a cui far seguire anche altre preghiere se voi desiderate oppure inserirla alla fine della recita del Rosario quotidiano. Ritroviamo la pace e l'amore in famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, dialoghiamo sempre meno in famiglia. A volte noi parliamo troppo, ma così poco di ciò che è importante. Tacciamo quello che dovremmo condividere e parliamo invece di ciò che sarebbe meglio tacere. Questa sera, Signore, noi vorremmo riparare con il tuo aiuto alle nostre dimenticanze. Forse si è presentata l'occazione di dirci l'un l'altro grazie o perdono, ma l'abbiamo persa. La parola nata nel nostro cuore non è andata oltre la soglia delle nostre labbra. Vorremmo dire a te queste parole con una preghiera in cui si intrecciano perdono e azione di grazie. Signore, aiutaci a superare questi momenti difficili e fai rinascere tra di noi l'amore e l'armonia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.